Siamo alla quinta di quaresima, l'ultima potremmo dire, poi entriamo nella settimana di passione per prepararci alla settimana santa. In questa domenica siamo fuori del contesto abitativo, immagino Gesù in una radura in mezzo alla polvere con una donna, con i capelli disfatti, una donna che ha peccato, un'adultera, viene posta lì nel mezzo e siamo sempre lì, vogliono provocarlo, sono i farisei, sono i benpensanti, quelli che sono abituati a giudicare gli altri, a condannare e non a guardare dentro di sé, quelli che guardano la pagliuzza e non la trave che è dentro di loro, ebbene sono lì pronti, pronti a imbeccare, imboccare la via del legalismo oppure lasciare che Gesù imbocchi la via del perdono. Il legalismo dice che bisogna lapidarla, una donna sorpresa in adulterio, un flagrante adulterio va lapidata. Il perdono di Dio andando in profondità, del resto anche nelle scritture, il perdono predicato sempre, testimoniato da Gesù dice invece che va perdonata. Se Gesù avesse usato la prima, avesse imboccato la prima via, quella del legalismo l'avrebbero accusato di essere spietato, di non aver cambiato nulla all'ordine del Costituito, se avesse perdonato, l'avesse accordato il perdono, immediatamente gli avrebbero detto tu infrangi la legge, gli avrebbero accusato di aver infranto la legge. C'è una terza via, che è la via del dito indice puntato su di sé, potremmo dire, la via del cuore. La terza via è spostare l'attenzione sulle coscienze. Chi di voi è senza peccato scadli la prima pietra, è una frase che conosciamo, che abbiamo imparato a memoria di lei. Ormai su questo punto dobbiamo ritenerci tutti fragili, nessuno di noi può scadliare la prima pietra. Ciascuno di noi però è considerato da Dio importante nella sua dignità. Diceva Antonio Bella riguardo ciascuno di noi è la basilica maggiore, le basiliche minori probabilmente sono gli edifici, la basilica maggiore è la dignità di ogni persona, che va sempre salvaguardata. Noi non corrispondiamo al nostro peccato, non siamo il nostro peccato. Siamo peccatori ma non siamo il nostro peccato. Il peccato può essere riconosciuto, può essere perdonato. E Gesù rapportandosi a quella donna non considera il suo passato, non le chiede nulla, non le dice nulla, le dice solo va e non peccare più. L'interesse è il futuro, le apre un futuro, le apre un orizzonte nuovo, è l'orizzonte della salvezza, della gioia, che può essere accordata a tutti. Gesù scrive su quella polvere, Maria Valtorta, una regente, dice che Gesù scriveva tu sei adultero, tu sei usuraio, tu sei assassino, tu hai giudicato i fratelli, scrive di ognuno dei presenti, scrive quello che sono realmente e che non sono quindi in grado di giudicare gli altri. Solo Dio può giudicare nella sua misericordia. La misericordia di Dio è accordata a tutti, purché riconosciamo umilmente di essere peccatori. Buona domenica.